E' un brano musicale composto nel 1985 da Michael Jameson e Lionel Rich, a scopo benedì e cantato dalle celebrità della musica pop americana. Si tratta di un vero e proprio vino alla condivisione e alla valorizzazione della diversità, ma anche un invito ad occuparci del nostro prossimo vincendo l'indifferenza, partendo cioè dalla considerazione che ognuno di noi deve fare propri i bisogni degli altri, aiutando chi sono fatti. Da un misurato solo di flivormi maritoni seguiti da quello e un intimico dei gabinetti, si giunge a un singolare crescendo assieme nei trombi, armonizzate in tutto il turno con le voci del vostro piccolo copolo. Signore e signori, dall'arrangiamento di Daniele Carnevani, we are the world. Signore e signore, signore e signore, signore e signore. Signore e signore, signore e signore, signore e signore. Signore e signore, signore e signore, signore e signore. Signore e signore, 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 signore e signore Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.